L'obesità è un problema emergente nei paesi industrializzati e negli ultimi 20-30 anni c'è stato un enorme incremento di prevalenza di obesità, tanto che si parla di vera e propria epidemia di obesità. In Italia esiste una crescente prevalenza da nord a sud di pazienti sovrappeso o obesi, si va da un 25-30% nelle regioni settentrionali fino ad arrivare a un 45-50% in regioni come Campania e Calabria. I motivi dell'obesità sono svariati e la complessità del problema fa sì che l'approccio debba essere multidisciplinare. Ovviamente tutti i pazienti obesi nel nostro centro, come in altri centri, ricevono una prescrizione dietetica. Quello che fa la differenza nel nostro centro rispetto ad altri centri è che noi sistematicamente, in tutti i pazienti obesi, prima di prescrivere una dieta misuriamo il fabbisogno calorico, il cosiddetto dispendio energetico, con degli esami mirati a misurare quante calorie vengono bruciate sia basalmente che sotto attività fisica. In questo modo la prescrizione dietetica è realmente personalizzata. Purtroppo le statistiche dicono che anche nei migliori centri solo il 20-25% dei pazienti obesi riescono a perdere peso, riescono a perdere più del 10% del peso iniziale. Pertanto, per questo motivo, il nostro centro è particolarmente attivo nello sviluppare e testare delle terapie innovative dell'obesità che sono basate sia sull'utilizzo di medical device che sull'utilizzo di nuovi farmaci che sono volti a togliere l'appetito o a ridurre l'appetito e quindi facilitano il paziente obeso alla perdita di peso e a seguire la prescrizione dietetica.